Musica Stupenda Facciamo un bel applauso Alla regina del VT Grazie Belcadet GTM 1977 Federico ti stanno Buonissima vettura Arrivo questa BMW Occhi puntati Quindi sull'equifaccio numero 66 Ne andiamo a scartabellare subito Su questa BMW Fenda davvero Un'avventura molto particolare Molto molto Altro BMW Mi piaceva Se la sei tersa Campana con Lidia Campana Loro arrivano da Monaco Quindi faranno praticamente Il ritorno a casa Quindi Verranno direttamente a casa E la E la E la Grazie a tutti.